Sai com'è? Dopo una lunga giornata le tue gambe e i tuoi piedi sono parecchio stanchi. Con l'avanzare dell'età questo accade sempre più spesso e ci si muove sempre meno. Dopo aver fatto attività fisica, le gambe stanche causano problemi per giorni e stare sui tacchi alti per un giorno intero è una tortura. Quello che ti serve è Belena Active Pro, il massaggiatore per piedi rilassante con sei testine per massaggi shatsu super efficaci. Basta appoggiarvi i piedi, accenderlo e farsi massaggiare per tornare in forma mentre ci si rilassa. Perfettamente rigenerante grazie alla funzione di calore a infrarossi a più livelli. Non avrai mai più i piedi freddi. Prova ora l'incredibile miracolo del massaggio a casa tua. Come il mio massaggiatore, ma molto più economico e sempre a portata di mano. Dopo pochi minuti sento che i miei piedi e le mie gambe sono di nuovo rinvigoriti. I muscoli sono molto più rilassati. Ora mi piace persino fare lunghe passeggiate con la mia nipotina. Il segreto dell'incredibile massaggio shatsu di Belena Active Pro sono le sei testine shatsu 3D rotanti con 18 nodi massaggianti che stimolano la circolazione sanguigna, il flusso linfatico e le zone riflesse del piede. Le due teste massaggianti flessibili al centro si adattano individualmente all'arco plantare e massaggiano il rilassamento e il benessere in profondità dei muscoli del piede e delle gambe. Inoltre, la funzione opzionale di calore a infrarossi a due livelli riscalda e rilassa ancora di più. Questo piacevole relax si diffonde in pochi minuti e dona nuova energia. Belena Active Pro rilassa in modo così efficace che anche gli esperti lo raccomandano come integratore lenitivo delle terapie professionali. Quando si rilassano i piedi con un massaggio rilassante che attiva il flusso energetico, si ha un effetto positivo sul benessere generale. La tecnica di massaggio shatsu mirato di Belena Active Pro è perfetta per questo. I muscoli si rilassano, il flusso energetico viene stimolato e in combinazione con il calore a infrarossi, che penetra in profondità, è il supporto perfetto per una maggiore vitalità. Con l'età diventi sempre più rigido. Con il passare del tempo la situazione è peggiorata perché si ha sempre meno voglia di muoversi. Alla fine non volevo nemmeno più uscire. Poi mia nipote mi ha portato questo fantastico massaggiatore. E cosa posso dire? Mi basta metterci sopra i piedi per ricevere un massaggio completo. Dopo pochi minuti sento già come le mie gambe e i miei piedi siano ringiovaniti. I muscoli si rilassano. Ora ho piacere di nuovo nel fare passeggiate con mia nipote. La nonna non usciva quasi più di casa. Si lamentava sempre che il suo corpo era troppo stanco per fare qualsiasi cosa. Poi io e la mamma abbiamo deciso di provare questo massaggiatore shatsu. E ora posso finalmente fare queste lunghe passeggiate con lei. Ora è di nuovo la nonna allegra di un tempo. Questo è il perfetto massaggio shatsu più profondo e penetrante che puoi goderti a casa tua ogni volta che vuoi. Puoi personalizzare il tuo massaggio con Belena Active Pro. Scegli tra tre diverse modalità di massaggio e tra tre diversi livelli di intensità. La funzione di riscaldamento a infrarossi opzionale a due livelli rende il tuo massaggio ancora più piacevole. I pulsanti di controllo, grandi e facili da raggiungere, possono essere facilmente premuti con le dita dei piedi, rendendo il funzionamento un gioco da ragazzi. E dopo 15 minuti si spegne automaticamente. Nel frattempo puoi fare quello che vuoi. Leggi, parla con i tuoi amici al telefono, guarda la tv, lavora a maglia o semplicemente rilassati. Sarai di nuovo in forma per la tua giornata. Con un semplice gesto del polso, Active Pro può essere riposta in modo salva spazio. Sono una cameriera e sto in piedi dalle 8 alle 10 ore ogni giorno con queste scarpe molto scomode. Ogni giorno attendo con ansia il momento in cui potrò finalmente rilassarmi. Accendo la tv e metto i piedi su questo. Dopo soli 15 minuti mi sento di nuovo come nuova. Con questa comoda funzione di calore posso davvero sentire come si diffonde il relax. Non ho mai provato nulla di simile, lo consiglio davvero. Posso fare tutto a casa mia, senza costosi appuntamenti e in qualsiasi momento. Adoro gli sport di discesa, ma verso la fine dei miei 40 anni devo ammettere che sento ogni osso del mio corpo. Active Pro mi dà l'opportunità di rigenerare completamente il mio corpo. Rilassa tutti i muscoli, dalle dita dei piedi ai fianchi. Così sono pronto a tornare in bici il giorno dopo. Pensavo di essere impazzita. I miei piedi erano sempre stanchi e li sentivo così gonfi. Ma poi mia madre mi ha regalato la Belena Active Pro. Ora ci metto i piedi per qualche minuto e mi sento subito molto meglio. Questa funzione di calore a infrarossi per quando hai piedi freddi è perfetta. Basta appoggiare i piedi, accenderlo e farsi massaggiare per tornare in forma mentre ci si rilassa. Chiama ora per ricevere il tuo Belena Active Pro, il rilassante e miracoloso massaggio per i tuoi piedi, comodamente a casa tua. Così potrai beneficiare immediatamente dei benefici sensazionali e rilassanti di un massaggio shatsu professionale ai piedi, nel comfort di casa tua. Quando vuoi, quando ne hai voglia, senza ingombranti e costosi appuntamenti. Riceverai il tuo Belena Active Pro completo di 6 testine rotanti per massaggio shatsu 3D, con 18 nodi di massaggio per massaggi ai piedi perfettamente rilassanti e profondi. Le testine rotanti flessibili che si adattano alle singole arcate Tre impostazioni di massaggio e tre livelli di intensità selezionabili che ti assicurano di ottenere sempre il massaggio di cui hai bisogno. È inclusa anche la funzione opzionale di calore a infrarossi con due livelli di intensità. In questo modo avrai sempre piedi caldi e accoglienti e potrai godere di un maggiore effetto del massaggio. E il comodo timer automatico spegne automaticamente il programma dopo 15 minuti, così non dovrai far altro che rilassarti. Fai un confronto. Per i normali massaggi ai piedi dovresti pagare centinaia di euro, prendere noiosi appuntamenti e perdere molto tempo. Ma Belena Active Pro è sempre disponibile quando ne hai bisogno e non costa centinaia di euro. Riceverai il tuo incredibilmente rilassante Belena Active Pro a questo prezzo speciale di ECL Shop. Esatto! Belena Active Pro ti costerà meno di due appuntamenti di massaggio. Ma aspetta! Massaggiamo il prezzo ancora un po'. ECL Shop ti riserva un ulteriore sconto immediato di altri 20 euro. Così potrai avere il Belena Active Pro al prezzo sensazionale che vedi ora sullo schermo. Hai sentito bene! Altri 20 euro di sconto per te! E non è tutto! Se ordini subito, aggiungiamo al tuo pacchetto anche una copertina protettiva accogliente, lavabile e igienica del valore di 15 euro, totalmente gratis! E pagherai sempre e solo il prezzo che vedi sullo schermo. Risparmierai immediatamente il 50% del valore commerciale. Ma attenzione! Questa offerta è strettamente limitata e disponibile solo fino a esaurimento scorte. Quindi non aspettare e prova subito il tuo Belena Active Pro per un massaggio rilassante e salutare ogni volta che vuoi. Chiama ora il numero sullo schermo o vai sul nostro sito www.eclshop.tv Dimentica i piedi e le gambe stanche che rovinano le tue giornate. Perché ora c'è Belena Active Pro, l'ingegnoso miracolo del massaggio shatsu! È più facile vivere la vita con i piedi rilassati. Basta appoggiare i piedi su Active Pro e noterai subito come il relax si diffonde. Mettiti comoda e lascia che massaggi la tua schiena e le tue gambe affaticate. Quando vuoi, dove vuoi. Rilassa i tuoi piedi mentre lavori ed è super conveniente. Non ho più bisogno di prendere appuntamenti con il massaggiatore. Risparmio tempo e denaro. Quando c'è una corrente d'aria, il riscaldamento a infrarossi è perfetto. Piedi caldi e rilassati mentre svolgo il mio lavoro quotidiano. È semplicemente fantastico! Il segreto dell'incredibile massaggio shatsu di Belena Active Pro sono le sei testine shatsu 3D rotanti con 18 nodi massaggianti che stimolano la circolazione sanguigna, il flusso linfatico e le zone riflesse del piede. Le due teste massaggianti flessibili al centro si adattano individualmente all'arco plantare e massaggiano il rilassamento e il benessere in profondità dei muscoli del piede e delle gambe. Inoltre, la funzione opzionale di calore a infrarossi a due livelli riscalda e rilassa ancora di più. Questo piacevole relax si diffonde in pochi minuti e dona nuova energia. Anche i veri esperti di shatsu sono convinti di Belena Active Pro. Guarda tu stesso! I piedi sono un elemento fondamentale per tutto il nostro organismo. Un massaggio ai piedi attiva il flusso energetico in tutto il corpo e può contribuire all'equilibrio e al benessere. Allo stesso tempo rilassa i muscoli, facendoti sentire immediatamente più riposato e più mobile. Questo massaggiatore da casa è un ottimo complemento per qualsiasi terapia shatsu. Grazie alle speciali testine di massaggio 3D, vengono massaggiate tutte le zone riflesse dei piedi. Anche a me piace farmi massaggiare i piedi con questo massaggiatore. È il relax perfetto in casa tua. Per tutta la vita sono stato un atleta, sempre in movimento. Poi qualche anno fa sono iniziati i problemi al ginocchio e ho finito per stare sempre più a casa. Sulla mia poltrona davanti alla tv, nemmeno la mia nipotina riusciva a convincermi a giocare con lei in giardino. Poi ho consultato un fisioterapista. Mi ha consigliato di utilizzare anche questo massaggiatore. Inizialmente non sapevo nemmeno a cosa potesse servire, ma appena l'ho usato, per la prima volta è stato chiaro. Rilassa i piedi e le gambe fino alla schiena e mi aiuta a rimettermi in piedi. E ora giochiamo di nuovo regolarmente a calcio nel giardino di casa. È come una volta! Questo è il perfetto massaggio shatsu più profondo e penetrante che puoi goderti a casa tua ogni volta che vuoi. Puoi personalizzare il tuo massaggio con Belena Active Pro. Scegli tra tre diverse modalità di massaggio e tra tre diversi livelli di intensità. La funzione di riscaldamento a infrarossi opzionale a due livelli rende il tuo massaggio ancora più piacevole. I pulsanti di controllo, grandi e facili da raggiungere, possono essere facilmente premuti con le dita dei piedi, rendendo il funzionamento un gioco da ragazzi. E dopo 15 minuti si spegne automaticamente. Chiama ora per ricevere il tuo Belena Active Pro, il rilassante e miracoloso massaggio per i tuoi piedi, comodamente a casa tua. Così potrai beneficiare immediatamente dei benefici sensazionali e rilassanti di un massaggio shatsu professionale ai piedi nel comfort di casa tua. Quando vuoi, quando ne hai voglia, senza ingombranti e costosi appuntamenti. Riceverai il tuo Belena Active Pro completo di 6 testine rotanti per massaggio shatsu 3D con 18 nodi di massaggio per massaggi ai piedi perfettamente rilassanti e profondi. Le testine rotanti flessibili che si adattano alle singole arcate. Tre impostazioni di massaggio e tre livelli di intensità selezionabili che ti assicurano di ottenere sempre il massaggio di cui hai bisogno. È inclusa anche la funzione opzionale di calore a infrarossi con due livelli di intensità. In questo modo avrai sempre piedi caldi e accoglienti e potrai godere di un maggiore effetto del massaggio. E il comodo timer automatico spegne automaticamente il programma dopo 15 minuti, così non dovrai far altro che rilassarti. Fai un confronto. Per i normali massaggi ai piedi dovresti pagare centinaia di euro, prendere noiosi appuntamenti e perdere molto tempo. Ma Belena Active Pro è sempre disponibile quando ne hai bisogno e non costa centinaia di euro. Riceverai il tuo incredibilmente rilassante Belena Active Pro a questo prezzo speciale di ECL Shop. Esatto! Belena Active Pro ti costerà meno di due appuntamenti di massaggio. Ma aspetta! Massaggiamo il prezzo ancora un po'. ECL Shop ti riserva un ulteriore sconto immediato di altri 20 euro. Così potrai avere il Belena Active Pro al prezzo sensazionale che vedi ora sullo schermo. Hai sentito bene! Altri 20 euro di sconto per te! E non è tutto! Se ordini subito, aggiungiamo al tuo pacchetto anche una copertina protettiva accogliente, lavabile e igienica del valore di 15 euro, totalmente gratis! E pagherai sempre e solo il prezzo che vedi sullo schermo. Risparmierai immediatamente il 50% del valore commerciale. Ma attenzione! Questa offerta è strettamente limitata e disponibile solo fino a esaurimento scorte. Quindi non aspettare e prova subito il tuo Belena Active Pro per un massaggio rilassante e salutare ogni volta che vuoi. Chiama ora il numero sullo schermo o vai sul nostro sito www.eclshop.tv